Benissimo Antonio, siamo rientrati nell'angolo, ti lascio la parola. Vorrei presentare ai nostri telespettatori un caleidoscopico a cui sto lavorando. È uno strumento che qui non c'è e è fatto con caratteristiche particolari. Per ora non rivelerò, ma guardiamolo. Ecco, il filmato è fatto con difficoltà perché lo strumento ancora non è montato. Quindi è ancora nulla bello da vedere fuori, ma molto bello da vedere dentro. È molto grande ed è spaziale. Ogni tanto si vedono i vetri degli specchi. Benissimo. E questo filmato è finito. Benissimo davvero, non vediamo l'ora di vederlo Antonio, ce lo farai vedere in un'altra puntata. Certamente, non si sa mai quando si finirà per parlare ancora di caleidoscopi, perché più o meno adesso passerà del tempo, però sicuramente anche perché ci sono degli strumenti nuovi come questo. È stato realizzato, è stato realizzato una settimana fa, poi ho questo, anche questo. Vedi le carte come sono? Cioè deve essere fatto con grandissima capacità. Il caleidoscopio secondo me è qualcosa di molto poesia, cioè è necessario sentire i colori, è necessario, io le carte le creo io, quindi le carte sono tutte create da me al computer e stampate, perché sono tutte carte mie. E soprattutto queste carte bellissime, queste che vengono dal Giappone, che sono così, come si può dire, iridescenti, ecco. È un momento in cui li sto costruendo, perciò credo che sia bello anche fare vedere diciamo come sono, alcuni sono un po' dei piccoli oggetti d'arte, come questo, questo in cui tu non hai ancora guardato, è un caleidoscopio da borsetta, molto piccolo, guarda c'è la ghiera che si muove, guarda verso la luce. Io sto guardando, è bellissima, molto bello, complimenti. Sono tutti belli, uno dopo l'altro, ecco. Chiaramente io penso che ci vuole ancora un po' di poesia in questo mondo. Molte persone si chiederanno, ma mori? Ma che voglia ha di fare queste cose? Ma perché ha presentato ancora il caleidoscopio? Sì, questa è la seconda parte, adesso non li vedrete per un bel po', ecco, anche se ho avuto molte telefonate di persone molto interessate, amici che hanno visto e sono rimasti diciamo molto colpiti. Questo strumento un tempo era molto di moda, diciamo, sappiamo che lui, il fisico scozzese Brewster, l'ha portato chiaramente a corte a far vedere al re e poi tutte le cortigiane se ne sono impadronite. E' diventato poi, è caduto in disgrazia questo strumento perché è diventato, è trasformato in giocattolo, diciamo. Molti sono convinti che il caleidoscopio è un bel giocattolo. Il caleidoscopio è uno strumento ottico di riflessione che poi abbia un senso, diciamo, estetico notevole, ha una sua, come si può dire, bellezza anche come strumento. E' anche uno strumento di relax, come hai fatto vedere tu, accompagnato alla musica. Di meditazione, uno strumento pieno di fascino, pieno di, anche un po' di mistero, alcuni sono chiari, alcuni più scuri, è un po' epnotico, così. Bellissimo, davvero. In un mondo che sta morendo come il nostro, perdiamo ancora due minuti a guardare nel caleidoscopio, vero? Va bene, Antonio, io ti ringrazio come sempre per essere stato disponibile a procedere le tue opere. Noi ci vediamo la prossima settimana. La prossima settimana con i Tulli Tulli Pan. Buon proseguimento, arrivederci. Arrivederci. Buon proseguimento, arrivederci.